Ciao Totventilatori, oggi vediamo come rimuovere completamente un programma dal vostro PC. Allora, perché porto questo video? Perché quando voi disinstallate un programma utilizzando il pannello di controllo, ok? Quindi cerco disinstallare, ok? Qui abbiamo disinstallato un programma, che è quello che fanno tutti, ok? Voi selezionate il programma, nel mio caso voglio disinstallare Droid Joy, e fate disinstall, ok? Quello che succede però è che spesso molti file rimangono salvati nel computer, ok? Molti file, per esempio, dove sono contenuti i salvataggi che voi avete fatto, e anche rimangono nella memoria anche i file di registro, ok? Quindi tutte le informazioni nel registro vengono conservate. Se noi vogliamo rimuovere completamente un programma e quindi liberare più spazio, dobbiamo affidarci a dei programmi specifici. Allora, il programma che vi porto oggi è Revo Uninstaller, trovate il link in descrizione ragazzi per arrivare a questa pagina, ok? A questo punto, come vedete, ci sono le versioni Pro, ma le versioni Pro non ci servono, a noi basta la versione gratuita, ok? Quella freeware. Possiamo scegliere se fare download gratuito o portable. A me piacciono i programmi portable, quindi scaricherò la versione portable. Cosa vuol dire? Che non c'è bisogno di installarlo. Io lo scarico, lo estraggo dall'archivio e posso utilizzarlo subito. Se voi volete installarlo, scaricate pure con download gratuito che vi scarica Lex, ok? E poi lo eseguite, eseguite la procedura di installazione. Io vi faccio vedere col portable. Allora, clicco su portable, ok? E lui inizierà subito il download, ci chiede dove voglio salvarlo, lo salvano i download. Come vedete ce l'ho già salvato, quindi non lo vado a riscaricare. Una volta che lo avete scaricato, in download, vedete, trovate questa cartella zip. In qui dentro è contenuta la cartella, quindi dobbiamo semplicemente prendere la cartella contenuta nello zip ed estrarla dove vi pare, ok? Io poi questa cartella la vado a mettere nella cartella programmi, così ho tutti i programmi. Ora, se noi apriamo la cartella, eccola qua, Revo Uninstaller, Portable, la apro e troviamo diversi file. Per far partire il programma basterà aprire questo, Revo Unport, ok? Lo apriamo e questa è l'interfaccia del programma, che può sembrare non molto fatta bene, non molto avanzata, ma l'importante è che il programma funzioni molto molto bene. Allora, qui trovate tutti i programmi che voi avete installato sul vostro PC. Mentre se andate su Windows App, trovate le applicazioni che erano già presenti, ok? Quelle preinstallate, anche qui per esempio Skype potrei toglierlo, non lo uso mai, neanche Spotify Music. Comunque, per questo video volevo farvi vedere che vado a disinstallare Droid Joy, eccolo qui. Allora, una volta che avete individuato il programma, tasto destro del mouse e c'è un install, cioè disinstalla in italiano. Ci sono anche altre varie opzioni, ma quello che ci interessa è uninstall. Quindi clicchiamo su uninstall, sei sicuro? Sì, quindi possiamo scegliere se make a system restore point before un install, cioè fare un punto di recupero per il programma. Cioè se voi lo disinstallate e poi vi pentite di averlo disinstallato, potete ricorrere a questo punto di recupero per ripristinare il programma come era prima di disinstallarlo. In questo caso non mi interessa, quindi non lo metto. E faccio continua. Si desidera rimuovere completamente Droid Joy Server e tutti i suoi componenti? Sì. Questa è la window del programma, ok? Voi anche se lo disinstallate dal pannello di controllo questa window vi esce sempre. Ok, una volta che ha finito, ok, è stato rimosso con successo, clicchiamo su ok. E qua però non è finita la disinstallazione, perché con Revo o un installer noi possiamo scegliere se andare avanti e scannerizzare il PC cercando dei file che sono rimasti, ok, correlati a questo programma. Nel mio caso farò una scansione moderata, quindi faccio scan, lui effettua la scansione e come vedete ha trovato tutti questi file che sono di quel programma ma che non erano stati cancellati con la disinstallazione normale di Windows. Ovviamente io voglio rimuoverli tutti, allora sembrano tanti, in realtà sono solo tre, ok, sono questo qui e questi due qui, ok, queste sono tutte sotto cartelle. Io farò Select All e dopodiché Delete. Ok, vuoi cancellare tutti questi file che hai selezionato? Sì. Ok, e abbiamo finito. A volte in altri programmi invece ve ne mette due di Windows, ok, uno per i file rimanenti e uno per i registri. Quindi, ora per esempio andiamo a vedere, potrei installare questo, PhotoDirector for Hacer, che non uso mai e mi occupa quasi un giga, quindi Uninstall. Anche qui Continua. Ok. Possiamo fare Scan. E come vedete anche qui sono rimasti un bel po' di file. Selezioniamo tutto, vedete qua ne sono rimasti molti. Delete. Yes. Prima ha trovato i registri, adesso sta cercando file e cartelle che sono rimasti sul PC. Sta caricando tutta la lista, come vedete. Deve essere abbastanza corposa. Ok. E come vedete tutti questi file e cartelle, vedete, sono tutti collegati a PhotoDirector. Incredibile, sono tantissimi. Vedete quant'è? Sono 794 MB, cioè praticamente la totalità del programma. In realtà è ancora installata sul computer. Quindi facciamo Select All, Delete, sì. Sta cancellando tutti questi file. Aspettiamo che finisca. Mi servono i soldi! Aiutatemi se volete, matto! Ok, una volta completato ci dice Selected, but remaining files will be deleted during the next system restart. Cioè, i file verranno rimossi al prossimo riavvio del PC. Ok? Ok, possiamo quindi fare Finish. E ragazzi, siamo tornati nel programma. Io spero che questo programma vi torni utile, quindi vi ricordo il link in descrizione. Se il video vi è piaciuto lasciate mi piace. Se avete dubbi, domande, scrivete un commento. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!